Vengo da Roveretto, in provincia di Trento, sono stato torinese d'aduzione poiché ho studiato qua per la mia laurea magistrale e ora attualmente sono ad Innsbruck. Per la ricerca della fondazione Inaudi mi sono occupato di Unione Bancaria, Unione Bancaria Europea, sotto tre profili differenti. Il primo andando a analizzare le ragioni che hanno portato alla creazione dell'Unione Bancaria, il secondo valutandone e analizzandone lo stato dell'arte e quindi pro e contro problemi ed opportunità e il terzo rispetto alle prospettive future e a ciò che è necessario affinché essa venga completata.